Non ha ancora indossato ufficialmente la maglia del Borussia Dortmund, né cominciato a segnare come nella passata stagione con il Torino. Ma l'arrivo di Ciri Immobile ha già fatto dimenticare la partenza di Robert Lewandowski ed ha acceso l'entusiasmo dei tifosi gialloneri, soprattutto quello degli oltre 60.000 italiani, la maggior parte dei quali di origine napoletana, che vivono e lavorano qui a Dortmund. I miei clienti tedeschi si sono chiesti che giocatore è Ciri Immobile e comunque sperano che faccia bene come Lewandowski. Quello che noi ci auguriamo è che Ciri Immobile farà lo stesso come Luca Toni al Barri del Monaco. Quindi tanti gol. Quindi tanti gol, tanti assist, speriamo. E speriamo, sì, che ci darà tanta felicità qua a Dortmund, vincendo qualche Coppa, qualche campionato. È certo che siamo contenti, perché qua c'è un altro napoletano che viene qua. Poi le soddisfazioni, finalmente, di una persona che è un ragazzo napoletano come me, si possa affermare. Non sono tifoso del Barri del Monaco, però visto che c'è il nuovo napoletano, l'anno prossimo non inizierà a seguire. Sono tifoso del Napoli e tifoso del Dortmund. Adesso c'è un motivo in più per andare allo stadio per vedere il nostro giro. Sono contento per lui che fa un'esperienza nuova, è venuto qui a Dortmund a giocare, perché comunque è un bagaglio di esperienza che non giocherà più in Italia. Però mi dispiace che sia andato dal campionato italiano primo. Secondo, fosse stato bello che l'avrebbe acquistato il Napoli, perché comunque è un grande giocatore. Certamente andremo allo stadio ogni volta che giocherà il Dortmund qui a segnali di una park. Tutti noi. Tutti e tre fare, soprattutto Ciri Mobile, tutti allo stadio. O ci si bella. Grazie a tutti.